Gloria a Dio, alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. Prima di tutto sono riconoscente a Dio, il mio sommo pastore, per avermi dato la grazia di poter essere qui con voi e condividere queste, che sono ancora stamattina solamente meditazioni, su una parte della scrittura che mi ha molto fatto riflettere. Ciò che infatti ha toccato la mia vita e il mio cuore, fratelli, è una realtà, ossia la meravigliosa realtà di Gesù, quale nostro divino pastore. Alleluia. In particolare sono due le parti nella scrittura dove viene descritta questa gloriosa realtà. Una è nell'Antico Testamento, nello specifico in Ezechiela, il capitolo 34, che vi invito a prendere. E l'altra è in Giovanni capitolo 10, che leggeremo solo dopo alcune parti. Credo, fratelli, onestamente che in questi ultimi tempi, tempi difficili, tempi di grande battaglie spirituali ed afflizioni, anche nel corpo di Cristo, ci sia bisogno di realizzare e di credere fermamente nella gloriosa realtà dell'amore e dell'ammaestramento del nostro divino pastore Gesù Cristo. Amen. Divino e infallibile. Amen. Gli uomini sbagliano, vengono meno, non così il divino pastore. Alleluia. Come dunque abbiamo letto all'inizio dell'adorazione, fratelli, dal Salmo 95, Salmo 95, noi siamo il greggio di cui egli ha cura e che la sua mano conduce, Salmo 95, 7. Siamo dunque il greggio di Dio. In tutta la Bibbia, sia dall'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, viene nominata questa realtà del popolo di Dio quale greggio. E la prima cosa stupenda che mi ha toccato, fratelli, che mi ha dato tanta pace, è il sapere che come greggio, ossia come pecore di Dio, siamo esattamente tutti uguali. Amen. Ci sono i pastori umani, ci sono gli anziani, ci sono quelli che hanno degli incarichi, ma davanti a Dio siamo tutti lo stesso greggio uguali. Ma soprattutto, fratelli, che cosa ci accomuna? Ci accomuna il fatto che abbiamo tutti necessariamente e costantemente bisogno della cura e della guida dell'unico pastore, Gesù Cristo. Personalmente, dunque, quanto mi ha confortato, fratelli, sapere che sia che io sia un ministro, sia che io abbia un incarico, sia che non lo abbia, sia che mi trovi sempre impegnato in attività, sia che stia sul pulpito o che stia seduto, Io ho bisogno di realizzare la cura e l'amore del fedele pastore. Amen. Alleluia. Come greggio di Dio tutti passiamo delle battaglie spirituali, tutti conosciamo le afflizioni e le ferite. Amen. Romani, capitolo 2, verso 11. Cosa dice la scrittura? Romani 2, verso 11. Nuovo Testamento. Scusate. No, non è questo, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Amen, questo l'avevo messo per un'altra cosa. Comunque dice la scrittura, in un'altra parte, che tutti nel mondo passiamo le stesse afflizioni. Amen. Quindi, questo, fratelli, quanto ci libera e ci conforta di fronte alle menzogne e agli inganni del nemico, che ci vuole convincere, ci vuole convincere con le sue menzogne. Stai passando solo tu questa afflizione. Stai vivendo solo tu questo vizio. Stai sperimentando solo tu questo tipo di tentazione. Solo tu stai attraversando questa depressione. Non sei e non sarai mai santificato e puro come quel fratello. Quante volte vi è successo? A me spesso. Questa è la voce del nemico. Ma gloria a Dio, perché tutti indistintamente abbiamo bisogno della cura e della guida del divino pastore. Nei primi versi del capitolo 34 di Ezechiele, il Signore attraverso il profeta condanna e giudica i pastori infedeli di Israele. E qui i pastori erano i governanti, fratelli, che spesso venivano chiamati pastori, i quali dovevano essere forti e preoccuparsi dei capi che sorvegliavano la loro nazione, come appunto un gregge. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e dia a quei pastori. Così parla Dio, il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pacere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pacere? Voi mangiate il latte e vi vestite di lana, ammazzate ciò che è ingrassato ma non pacete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta ma avete dominato su di loro con violenza e asprezza. Leggendo questi primi versi, fratelli, deduciamo e comprendiamo che la riprensione riguarda i pastori. Intesi come incarico, come incaricati da Dio a governare. Dunque potremmo pensare, vabbè, riguarda i pastori, non mi riguarda. Ma credo, fratelli, che in questa parola ci sia un qualcosa che riguardi tutti noi. Riguarda tutti noi gregge di Dio, alla luce del Nuovo Testamento. Perché? Ho considerato il fatto che è vero che esistono pastori, come ministri dati da Dio, lo dice la scrittura, i fesini, i doni. Esistono pastori come ministri istituiti da Dio con particolari carismi, per l'edificazione del corpo di Cristo. Amen? Ma fratelli, ho pure considerato questo. lo stesso Spirito Santo che vive nel pastore. Non vive forse in mente, eh? Amen? Alleluia! Questa è una realtà. Non posso avere io la stessa guida, lo stesso discernimento, ed essere io stesso guida, aiuto, forza ed ammaestramento, prima nella mia famiglia e poi nel corpo di Cristo. Amen? Questa è una realtà. Ecco dunque, fratelli, che anche noi, come semplice gregge, abbiamo la responsabilità di sostenerci, di curarci e di condurci a vicenda all'interno del corpo di Cristo. Amen? Galati 6, 1-2 Galati 6, 1-2 Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i piszi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Alleluia! Che parola potente, amen? Io vorrei adempire la legge di Cristo. Bene. Porta i pesi di tuo fratello e se cade, rialzalo. Amen? Questo dice la scrittura. Quindi, abbiamo detto, noi come gregge abbiamo questa responsabilità perché lo Spirito Santo vive in noi come nel pastore. Quindi riguarda anche noi. Rialzare il fratello, portare i pesi gli uni degli altri. Rialzare il fratello. Come? Con spirito di mansuetudine. Amen? Alleluia! Fratelli, mi sono chiesto, quando anche sorprendessimo un fratello, una sorella, in colpa, come lo guarderemmo? Da quale spirito saremmo animati? Amen! Forse, beh, per fortuna è successo a lui e non a me. Beh, in fondo, un po' se lo merita. Amen! Io non avrei mai fatto una cosa del genere. E quante volte, appunto, ci facciamo giudici e, in un certo modo, mettiamo noi dei sensi di colpa sul fratello o sulla sorella che sono caduti. Ma Dio dice, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Alleluia! Cioè, cosa significa? In totale serenità. Amen! Perché se abbiamo un Dio che perdona, se abbiamo a che fare col gran perdonatore, chi sei tu da mettere dei pesi al fratello che è caduto? Amen! Rialzalo con spirito di mansuetudine, con gli occhi d'amore, con la pace nel cuore, che se quel fratello chiede perdono e si umilia, Dio lo perdona. Amen! Gloria a Dio, con spirito di mansuetudine. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete la legge di Dio. Amen! Quale legge, fratelli? La legge dell'amore perfetto. Quando tu fai quello, hai adempiuto la legge perfetta di Cristo. I pesi, fratelli, in questo passo fanno riferimento al pesante carico della tentazione e del fallimento spirituale. Ecco dunque che siamo chiamati, come chiesa, come gregge, ad intercedere e ad incoraggiare i nostri fratelli in fede. Amen! Ecco quindi che questo passo non riguarda il pastore, solo, riguarda tutti noi. In famiglia, sono io una guida spirituale? Sono io in famiglia una voce che incoraggia? Sono io in famiglia un cuore che cerca costantemente il volto di Cristo? Sì, fratelli, perché il pastore non viene in casa con te. Amen! Sì, ti può dare qualche consiglio, ma non vive in casa con te. Non è tutti i giorni dentro le mura di casa tua al pastore. Amen! Sì, ti può telefonare, puoi spendere del tempo con lui, ma non è in casa con te. Non conosce le dinamiche della mia famiglia. Dunque, sono io, alleluia, responsabile con lo Spirito Santo, la parola di Dio e la preghiera. Amen! Oh, grazie Gesù per questa realtà. Sono io chiamato a governare e condurre la mia casa. Prima Timotio, vi ricordate? 3, 4, 5. Lo ricordiamo, perché è importante che la parola ci ricordi, la verità. Parla dei governanti, dei vescovi, ma riguarda tutti noi, come abbiamo visto. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che Dio ci dia sapienza e intelligenza, fratelli. Prima di tutto tra le mura della nostra casa. Amen! A fare la differenza. Torniamo a Ezechiele, verso 2. Non hanno fatto altro che pascere se stessi. In poche parole, non hanno fatto altro che pensare ed agire per il proprio benessere. per essere a posto, prima di tutto, con loro stessi. Fratelli, mi sono chiesto, non è forse una realtà che riguarda tutti noi anche oggi? Filippesi 2, 21. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo. Qua sta parlando dei fratelli. Amen! Quanto egoismo, fratelli! Quanto amore per me stesso! Quanto tempo solo prima per i miei interessi! E poi se ne avanza per il fratello! Quanto amore per noi stessi! E credo che dietro a tutto questo, fratelli, ci sia una cosa sola. Una grande mancanza di fede. Perché? Sì, perché siamo noi che ci preoccupiamo per noi stessi. E non crediamo che mentre noi ci occupiamo dell'altro, Dio si occupa di noi stessi. Amen! Alleluia! Questa è una realtà gloriosa. Ma siamo troppo accecati dall'egoismo. Vogliamo essere a posto prima noi. Poi dopo se c'è tempo per il fratello. Ma Dio non è così. Gloria a Dio! Lui è il divino pastore. Mentre tu ti occupi dell'altro e hai gli interessi di Cristo verso tuo fratello, Dio si occupa di te. Alleluia! Gloria a Gesù! Amen! Il buon pastore non manca di farlo con me. Andiamo avanti. Al verso 4, fratelli, c'è un termine che credo riguardi ancora noi oggi. Dice Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata e non avete fasciato quella che era ferita. Non avete ricondotto la smarrita e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro. Di fronte a questa parola, fratelli, sicuramente non ci sentiremo presi in causa. Ma quando mai ho voluto dominare un fratello? Dio me ne guardi. È un termine molto duro. È una parola troppo forte. Ma in prima Pietro 5, 3, il termine dominatori richiama l'idea del più forte che schiaccia il più debole. E di trascinarlo dove vuole lui. Quante volte, fratelli, magari per rivelazione avuta, magari consapevoli di una maggiore esperienza, magari per una maggiore maturità, abbiamo cercato di dominare il fratello e trascinarlo alla nostra convinzione. Trascinarlo al nostro modo di vedere le cose. Quasi a farlo un nostro suddito. E non di Gesù Cristo. Amen. Dominate il fratello. Che non sia così tra di noi, fratelli. Alleluia. Che possiamo condurre gli altri a essere sudditi di Cristo Gesù. Non della mia convinzione. Non della tua dottrina. Non della tua visione. Di quella di Cristo. Amen. Alleluia. Ecco dunque che a causa di questo egoismo e di questa presunzione, fratelli, alcune pecore si sono indebolite. Amen. Perché Dio aveva bisogno di te per rafforzare quella pecora. Ma tu eri egoista. Pensavi a te. E quella pecora si è indebolita. Ecco perché sei importante, fratello, sorella. Non sei una pietra inerme. Non sei una pietra inerme, no. Sei prezioso per Dio. Nel corpo di Cristo. Quindi si sono indebolite. E altre pecore, a discapito di quelle, apparentemente rafforzate. Apparentemente. Perché? Vediamo cosa dice ai versi 20, 21, 22. Perciò così dice loro il Signore Dio. Eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. Siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli, finché non le avete disperse e cacciate fuori. Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Gloria a Dio. Avete spinto e cozzato tutte le pecore più deboli, finché non le avete disperse. Che cosa significa, fratelli, per noi? Ho pregato. Ho detto, Signore, abbi pietà di me e della Tua Chiesa. Quanti meccanismi subdoli e maliziosi, forse anche oggi nelle comunità, per disperdere le pecore considerate deboli, fragili, sempre bisognose. Le ultime. Amen. Non c'è posto per quelle nella Chiesa di oggi, molte volte. Perché? Perché non c'è posto nella Chiesa dove si è tutti forti. Non c'è posto nella Chiesa dove si vuole andare sempre a gonfie vele. Amen. Avete cozzato la più debole. L'avete spinta con le corna finché non l'avete dispersa. Quelle pecore, fratelli, danno quasi fastidio. Non sono adatte. Non così il divino pastore. Amen. Alleluia. Gloria a Cristo. Ma al verso 11, gloria a Dio, Gesù, il sommo pastore, interviene. Il divino pastore interviene e ricorda che lui stesso si prenderà cura delle sue pecore. Alleluia. Dove gli uomini non arrivano, dove gli uomini sono fallaci, Dio ci pensa, a me e a te. Gloria a Dio. Perché ci vuole pascere inverdeggianti pascoli. Alleluia. Il pastore, fratelli, al verso 12, dice Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse. Così io andrò in cerca delle mie pecore. E le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Amen. Lo sappiamo. Qua parla del popolo di Israele. Ma c'è un riferimento ai cuori del gregge. Amen. Il pastore si trova in mezzo alle sue pecore disperse. Quando? In un giorno di nuvole e di tenebre. In un giorno in cui spiritualmente stai sperimentando le nuvole e le tenebre. che ti fanno perdere la via e tu non sai che direzione prendere. In un giorno di nuvole e tenebre in cui hai paura, sei spaventato e veramente temi per la tua vita e non sai come andrà a finire. Ti è mai capitato? A me sì. Amen. Forse un peccato. Forse una malattia. Forse un'attitudine. Forse un tuo caro, un tuo amico. Forse una situazione. Ma il pastore, il divino pastore, è in mezzo a te. Per far cosa? Per salvarti e per liberarti. Alleluia. Mentre tu sei disperso il pastore è in mezzo. È completamente al centro della situazione e ha tutto sotto controllo. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, mi immagino la scena. Che pace, no? Puoi essere una pecora dispersa che si guarda intorno, a un certo punto ti giri e vedi che c'è il tuo pastore. Alleluia. Che non ti ha mai lasciato. È sempre lì. È al centro. Gloria a Dio. E questa è la realtà del pastore divino, fratelli. Lui stesso, con la sua mano, è in grado di portarti da uno stato di tenebre e nuvole e paura, alla gloria di una comunione di pace. Dove? Sugli alti colli di Israele. Alleluia. Non è forse lui che prende l'oppresso dal pantano e lo porta, fratelli, in luoghi di refrigerio, dice la scrittura. Alleluia. Grazie Dio. Le farò uscire dai popoli e le pascerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli, in tutti i luoghi abitati del paese. Questo fa il divino pastore con noi. Verso 15 e 16. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte e le pascerò con giustizia. Le grassa e le forti sono quelle di prima, no? Che pensavano loro stesse. Perduta, smarrita e ferita. Quanti cuori ci sono in queste condizioni? E quante volte ci troviamo in queste condizioni? E spesso, fratelli, siamo magari noi stessi che ci siamo messi in queste condizioni, amèn? E l'esempio della pecora è molto chiaro. Perché? Perché, fratelli, la pecora è un animale docile, no? Come la pecora può seguire un rumore, può seguire un odore, che la conduce al pericolo, no? Passo dopo passo, va avanti, segue un odore, un rumore. E poi si può trovare in un burrone, amèn? Può scivolare, ma ha a che fare sempre col divino pastore. Similmente noi, fratelli, possiamo essere attratti da ciò che non è da Dio. Amèn? Non siamo perfetti, lo sappiamo. Possiamo essere attratti dalle luci di questo mondo. E piano piano metterci nei guai, no? Passo dopo passo, come la pecora. Ma abbiamo a che fare col buon pastore, alleluia, che ci viene sempre, sempre a cercare. Amèn? Forse gli uomini ti daranno per disperso, forse gli uomini ti daranno per irrecuperabile. Non così il divino pastore, alleluia, perché c'è sempre speranza in Cristo, amèn? Gloria al divino pastore. In più, fratelli, che cosa ne è di quelle anime, quei fratelli che non vediamo più tra di noi? Amèn? Che cosa ne è di quelle anime che non sono più nel nostro mezzo? Forse gli abbiamo dati per perduti. Forse pensi che quel fratello si sia perduto, ormai non c'è più speranza. C'è una buona notizia per il fratello, alleluia, alleluia. Il pastore lo va a cercare e la pecora conosce la sua voce, alleluia. Oh, grazie Cristo, la meravigliosa realtà. Gloria a Dio. Forse molti fratelli gli abbiamo già dati per irrecuperabili, sì. Perché? Perché tu sei in chiesa e lui non c'è. Amèn? Non è così per Dio. Amèn? Alleluia! Grazie Gesù, distruggi tutti i nostri cliché, distruggi tutte le nostre convinzioni umane, faccia avere comunione con l'amore del divino pastore, alleluia! Gloria a Cristo! Il divino pastore continuerà a cercarli, a cercarli, a cercarli. Per cosa? Per ricondurli all'ovile, amèn. Giovanni 10, 27, 28 e 29. Cosa dice Gesù? Cosa dice Gesù? Alleluia! Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, alleluia, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Gloria a Dio! Questo è il nostro meraviglioso pastore. Non c'è dunque luogo, fratelli, lontano. Non c'è condizione del cuore lontana, dove il divino pastore non possa arrivare. Salmo 139 Se vado in cielo tu sei là. Se scendo negli abissi ti trovo. La luce e le tenebre per te sono uguali. Gloria a Dio! Con quale Gesù abbiamo a che fare, fratelli. Alleluia! Non saremo mai in situazioni di cui Dio non ne sia conoscenza. Il nostro buon pastore conosce tutto di noi. E se ne prende cura. Alleluia! Sia che tu sia in chiesa, che tu non sia in chiesa. Se hai conosciuto il divino pastore, lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Amen! Alleluia! Forse gli uomini sì, ma non il divino pastore. Grazie Cristo! Sto per terminare. Verso 17 Ezechiele Gloria a Gesù Alleluia! Quanto a voi, o pecore mie, così dice Dio il Signore. Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, fra montoni e capri. Il Signore giudicherà i capri, simbolo di orgoglio, ostinatezza e presunzione e superbia. Amen! E la capra, simbolo di mansuetudine, ma soprattutto di docilità. Amen! Ho pregato, Signore, desidero essere sempre di più mite. Ma soprattutto, Gesù, voglio essere arrendevole a te. Oh, Gesù, desidero essere ammaestrabile e docile sotto le tue mani d'amore. Fratelli, tu puoi anche sbagliare, puoi anche peccare, ma se il tuo cuore è un cuore mite, quando Gesù arriva, tu gli dirai, Gesù, hai ragione, fai di me quello che vuoi, ti chiedo scusa. Alleluia! Dammi un carattere da pecora, Gesù. Voglio essere arrendevole sotto le tue mani. Forse sbagliare più di altri, ma avere un cuore mite è arrendevole alle tue mani. Amen! Voglio essere rimissivo. Alleluia! Voglio prenderla sempre persa con Gesù, affinché lui possa operare. Alleluia! Ok, termino. Ebrei 13, 20. Intanto invito il gruppo di Lode, possiamo rifare dopo se è il mio pastore. Per concludere, vi chiedo ad alzarvi in piedi. C'è una dichiarazione solenne, ebrei 13, 20. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno, ha tratto dai morti il grande, il grande, pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà, e opere in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui, a Lui, a Lui, a Lui sia la gloria, nei secoli, dei secoli, amèn, alleluia, gloria a Dio. Grazie, Cristo. Mi fai riposare in verdi pascoli, e di nulla mi fai mancare. Tu mi sa, sì, col miele della tua dolce parola, mi fai adorare davanti a te, e ti loderò, e ti amerò. Sei il mio pastore, sei il mio Gesù, sei il mio Signor. Mi fai riposare in verdi pascoli, e di nulla mi fai mancare. Tu mi sa, sì, col miele della tua dolce parola, mi fai adorare davanti a te, e ti loderò, e ti amerò. Sei il mio pastore, sei il mio Gesù, sei il mio Signor. Mi fai riposare in verdi pascoli, e di nulla mi fai mancare. Tu mi sa, sì, col miele della tua dolce parola, mi fai adorare davanti a te, e ti loderò, e ti amerò. Sei il mio pastore, sei il mio Gesù, sei il mio Signor. Grazie, Signore Gesù, perché sei il nostro pastore, grazie, Signore, perché ci rincorri ogni volta che scappiamo, Signore Gesù. Quante volte siamo scappati dall'ovile, Signore Gesù. Quante volte ci siamo allontanati per una cosa o l'altra, Signore, ma tu ci sei sempre venuto a cercare, Signore. Ci hai fasciato, ci hai nutrito, e si è fatto festa in cielo, Signore Gesù, ogni volta. Ti vogliamo benedire, lodare e ringraziare, Signore Gesù, perché tu sei il buon pastore, Signore. E non vogliamo seguire te, Signore, è solamente te, Signore Gesù, perché tu non cambi mai, tu non sbagli mai. Tu sei perfetto, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché sei quel pastore, sei la nostra porta attraverso la quale entriamo, Signore Gesù. Ti benediciamo, tu sei l'unica porta, non ci sono altre porte, Signore. Tu sei l'unica porta. Nella quale c'è salvezza, Signore Gesù. Non si entra per altre porte, Signore Gesù. Entriamo solo attraverso Cristo, solo attraverso quel pastore, solo in Lui c'è salvezza, solo nel Suo nome c'è salvezza. Solo nel Suo nome c'è salvezza, Signore Gesù. Noi ti benediciamo e ti lo diamo per la parola che ci è stata portata oggi, Signore Gesù. Che ognuno di noi guardi un attimo tutte le volte che è scappato e ringrazi il Signore per tutte le volte che è stato preso, Signore Gesù. Vogliamo proprio dirti, Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto colui che confida in Dio, Signore Gesù. Vogliamo confidare sempre e solo in Dio. Signore Gesù, ti chiediamo di fare come fai tu, di non guardare mai la pagliuzza nell'occhio del mio fratello, ma di guardare sempre la mia trave, Signore Gesù. Di guardare sempre quella, Signore, perché quando tu mi guardi, tu mi vedi con una pagliuzza, Signore Gesù. E io ti benedico e ti lodo, Signore Gesù, perché tu, Signore, mi vedi sempre, sempre, sempre riscattabile, Signore Gesù. Perché siamo stati riscattati dal tuo sangue, Signore Gesù, e tu ci segui continuamente. Ti benediciamo e ti lo diamo, Signore Gesù, per tutto quello che fai per noi. Che sia oggi un giorno in cui veramente facciamo un proposito di lasciarci condurre al pascolo ogni giorno dal nostro pastore. Di non scappare mai da quello vile, perché è l'unico vile dove c'è tranquillità, serenità, salvezza, gioia e pace. È l'unico vile dove possiamo riposare tranquilli, in verdi pascoli ed anche tranquille. Signore Gesù, ti benediciamo e ti lo diamo per tutto quello che fai e per quello che hai fatto. Nel nome di Gesù. E tutto il popolo di Dio dice? Amen vuol dire così è. Amen vuol dire così è. Gesù è il mio pastore. E tutto il popolo di Dio dice? Amen. Così è.